Cinecronaca del convegno italo-turco di Milano, l'omaggio al monumento ai caduti del ministro degli esteri di Turchia, sua eccellenza Rustu Aras. Nel salone del palazzo del governo, il ministro degli affari esseri d'Italia, Conte Ciano, e il rappresentante di Kemal Ataturk hanno avuto un amichevole e particolarizzato scambio di vedute nello spirito del trattato italo-turco del 30 maggio 1928, constatando la volontà e l'utilità per i due governi di cooperare nell'interesse dei rapporti italo-turchi e per fare opera generale di pace e di stabilità. Il magnifico colpo d'occhio offerto dalla sala scaligera durante la serata di gala a chiusura del soggiorno ufficiale dei due ministri. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori di